Da questa mattina presto Eva Cloz è stata impegnata nel triste rito di dover per così dire svuotare i cassetti in consiglio provinciale. Quella odierna è stata infatti la sua ultima presenza nell'assemblea legislativa dopo 31 anni di onorata carriera, magari non caratterizzata da grande popolarità presso la comunità di madrelingua italiana, ma certamente tutti le riconoscono un'onestà intellettuale indiscutibile, prescendendo appunto dalle sue convinzioni secessioniste. Oggi è il momento di buttar via tante cose, alcune però ha deciso di salvarle. Per esempio anche lo statuto di autonomia in lingua italiana perché di tanto in tanto dovevo fare cenno a loro che il concetto alto adige nello statuto di autonomia non esiste solo per la regione. Nel primo pomeriggio è in consiglio l'addio dell'aula Eva Cloz, un momento commovente non solo per la diretta interessata. Tutte le forze politiche hanno voluto tributarle a un saluto caloroso, anche i più accerrimi avversari. Si è avuta la netta sensazione che la sua treccia, il suo modo di agire in politica, la sua serietà mancheranno all'aula. Anche ai nemici perché quando ti manca un punto di riferimento a cui mirare nel bene o nel male è un problema. La passionaria forse si era preparata questo giorno e tutto sommato ha limitato la commozione. Nella tribuna è riservata agli spettatori, tanti suoi sostenitori e poi Miriam Azz Tammerle, la giovane esponente di Suttura del Freiheit, consigliere comunale a scena che succederà a Eva Cloz in consiglio. Lei stamani, prima di finire il lavoro di pulizia dei cassetti, ci ha tenuto a spiegarci due cose. Una è che l'unica sua assenza ingiustificata in aula su un totale di 1.365 sedute era legata a un vero e proprio fraintendimento sull'orario di convocazione. L'altra è che il consiglio provinciale è importante, che la politica, nonostante tutte le critiche dei cittadini, è importante. Come per dire che non conta se lei se n'è andata. Quando la gente dice politica non mi interessa, politica non c'entra per me, io dico sempre ogni pezzo di pane è politica.